Grazie all'Associazione Armonie che quest'anno ha pensato a Teleton. Teleton è conosciuto un po' da 26 anni in Italia, promuove questa maratona televisiva sulle reti RAE e grazie a loro noi riusciamo ad essere presenti sulle case di tutti gli italiani nella terza settimana di dicembre e grazie a questo riuniamo fondi per studiare le malattie genetiche. Queste malattie sono definite rare e per questo non sono coinvolte le grandi società farmaceutiche per produrre medicine adeguate. Però quest'anno possiamo annunciare che grazie dopo 26 anni di richieste e di finanziamenti quest'anno siamo arrivati alla cura di 26 malattie e Teleton sarà sempre a fianco di questi malati sono conosciute circa 6.000 nel mondo e fin tanto che a fianco alla parola malattia non scriveremo la parola cura Teleton continuerà la sua missione. Voi vi affidate alla generosità dei pescaresi e degli abruzzesi vogliamo parlare di questo appuntamento quando si svolgerà? Allora si svolgerà il 18 sera con una mega cena a cui auguriamo partecipano i pescaresi e il ricavato di questa cena verrà donato dall'associazione Armonia totalmente a Teleton. Perfetto